...di fobie! Io volevo dire, ho paura dei gechi e quando vedo i gechi sui muri non riesco a passarci di sotto mi allontano, guai poi se li trovo magari in una casa di campagna non riesco a dormirci, cioè ci sto male Ma perché Luca si stupisce? La signora ha solo detto di aver paura dei gechi Nel testone gli frulla qualcosa Qui Gaffi ci cova Io se vedo per esempio una lucettola come la signora per il geco mi viene una cosa, come ho detto, sulla pelle che è così carina Mi chiedo scusa, purtroppo stiamo in conclusione Teniamo fuori una cosa seria e drammatica come la cecità Cecità? Ma è incredibile! Ecco perché Luca si stupiva, ha scambiato la paura dei gechi per la paura dei cechi, i non vedenti e per questo si è pure indignato Battuta, ti prego Teniamo fuori una cosa seria e drammatica come la cecità A meno che Luca ignori del tutto l'esistenza dei gechi i piccoli rettili E lui per tutta la vita, ogni volta che ha sentito parlare di questi animali ha pensato a persone non vedenti Battuta, ti prego Io se vedo per esempio una lucettola come la signora per il geco mi viene una cosa, capito, sulla pelle Mi chiedo scusa, purtroppo stiamo in conclusione Teniamo fuori una cosa seria e drammatica come la cecità Comunque Luca, noi non abbiamo bisogno né di sondaggi né di Expol e neanche di proiezioni Il presidente eri e resti tu Sì, presidente della Repubblica di Gaffonia